Bene, bene, bene. Ciao a tutti, daremo Stefano in volo sui cieli di Tivoli. Com'è volare Stefano? Rilassante, bello. Bello, bello, bello. Ti salutiamo Stefano, ti salutiamo. Giusto mamma e Michela. Bene, bene, bene. Adesso devi tenerla a te la telecamera, così. Poggiarla anche sulle gamba e riprendi quello che vuoi. Ora io ti faccio vedere. Se vi accostiamo, se no, non vedi davanti. Insomma, non vi hai detto quale spianto forse. Anche io voglio cambiare e provare. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Cioè se vengo al ristorante, mi chiede a mangiare di questo. E diventare il prezzo. Tipo di friday. No, è... Un buon media passaggio, quindi non lo so niente di personale. Però comunque... Ma è una cosa che ti piace fare? No, pesce. No, pesce, pesce. C'è un po' di pesce. E' un po' di spianto, è un po' di spianto. Non so più a che cosa si fa. E' un po' di vento, non c'ho un po' di successo. E' un po' di galla per fare le stesse cose. Inizio. E' un po'. Come facciamo a creare una cosa, quello dopo low it. Quando per aver fatto il video controllo. E' un po' di notare. E' un po' di saluto. Infatti adesso sono scesi un po'. È un po' se esce. Questa è la luce Questa è la strada Guarda un bello l'effetto della dinamata Questa è la strada e il centro è la strada Cosa è la strada Questa è la strada Adesso andiamo a verso la luce Adesso andiamo a verso la strada Adesso andiamo a spazio Questa è la strada e basta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti